Raccontare la Calabria sui social con gli occhi dei calabresi e dei turisti, un progetto ambizioso condotto da un gruppo di associazioni con il patrocino della Calabria Film Commission, per promuovere dal basso l'immagine della regione attraverso una serie di mini spot girati dagli utenti e caricati su Instagram con l'hashtag bella come un film. Straordinario il risultato ottenuto, sono giunti oltre 800 filmati con proposte innovative a tratti sorprendenti. La Calabria viene descritta da molteplici punti di vista, se ne svelano gli angoli più nascosti, vengono dipinti da prospettive inedite scorci sconosciuti agli stessi calabresi. Il montaggio del regista Mimmo Calopresti ha trasformato questo insieme di video amatoriali in un'opera di livello cinematografico, con l'ambizione di farne un formidabile veicolo pubblicitario, un condensato di volti, luoghi e suggestioni presentato nella manifestazione di chiusura del contest, ospitata nel cinema modernissimo di Cosenza, dove il touring club italiano ha premiato il filmato che meglio rappresenta il territorio. Assegnato dal Comitato Giovani dell'UNESCO un riconoscimento al miglior video avente come principale soggetto il patrimonio artistico-culturale della Calabria, mentre un ulteriore premio è stato assegnato al filmato con maggiori visualizzazioni sulla rete. Alla manifestazione partecipata dalle scuole cittadine è intervenuto il presidente della regione, Mario Olivevio. Salvatore Bruno per la CNews24